Vera, una donna di 45 anni piuttosto in carne, stava in piedi nel mezzo di una grande stanza ammirando il suo nuovo divano appena acquistato. Che bello! Oh, quanto è bello! Pensava sorridendo. La donna si allontanò verso la porta e scrutò criticamente tutta la stanza. Ora è veramente un salotto! Pensò veramente al mente, sorridendo ancora più ampiamente, immaginando l'ammirazione di tutti i suoi conoscenti e vicini. Il suo sguardo scivolò verso la finestra e la donna si corrugò in una smorfia di disappunto. Ancora Gregorio? Così si chiamava il marito, che guardava fuori dalla finestra e sistemava trascuratamente la tenda. Quante volte aveva detto che la distanza tra gli anelli doveva essere uguale? Ma no, lui la tirava in modo approssimativo. Si avvicinò frettolosamente e sistemò a lungo la tenda, cercando di ottenere la disposizione perfetta degli anelli. Poi si allontanò di nuovo verso la porta, osservò a lungo e infine emise un soddisfatto brontolio. Approfittando dell'assenza di qualcuno in casa, Vera girava lentamente per i suoi possedimenti, che consistevano in un ampio corridoio trasformato con i suoi sforzi in un piccolo ingresso. Una cucina e quattro stanze. Si fermava a lungo in ogni stanza, controllando scrupolosamente che tutto fosse al suo posto. Il fatto è che Vera era letteralmente ossessionata dalla pulizia e dall'ordine. Stava a lungo nella stanza di suo figlio Vittorio, che era al servizio militare da due anni, provando un senso di profonda soddisfazione. Solo qui tutto era perfetto. Nel resto dell'appartamento, invece, Gregorio e la loro figlia di dieci anni, Larisa, continuavano a fare disordine e a lasciare le cose in giro trascuratamente. Entrò nella stanza di Larisa, chiuse con disappunto la porta dell'armadio lasciata socchiusa, sistemò le tende e fissò con rabbia il letto dove, arrotolata a palla, dormiva pacificamente la gatta Marquise. Perché? Perché devono avere queste stupide creature? Pensò disperata Vera. Che utilità hanno? Nessuna. Solo sporcizia e disordine. Nessuna comprensione o compassione per lei, per i suoi sforzi di mantenere la casa in perfetto ordine. Gli animali portano gioia e pace in casa, rendono le persone migliori, le ripeteva sempre suo marito. Sì, certo, gioia e pace, disse Vera ad alta voce, irritata. I suoi patimenti iniziarono quando Vittorio andò a scuola. Un giorno il figlio tornò dalle lezioni dicendo che il tema della prossima ora di classe sarebbe stato il mio animale domestico preferito e che tutti coloro che avevano animali a casa dovevano preparare brevi relazioni sulla loro vita. Ma io non ne ho pianse amaramente. Vittorio aveva da tempo chiesto alla madre un pappagallino di colore giallo-verde, come quelli che vivevano nell'angolo vivente della scuola. Sono così carini, piccoli. Saltano in modo così divertente e ti guardano con i loro occhietti come perline. Raccontava entusiasta il ragazzo. Mi prenderò cura di lui, lo nutrirò, pulirò la gabbia. Per favore, mamma. Ma Vera non era d'accordo. Non amava gli uccelli. Ad essere onesti, non amava gli animali in generale. E tutto sarebbe finito come al solito, con un no categorico e le lacrime del figlio. Ma poi, sfortunatamente, c'era Gregorio in casa. Ti piacciono davvero i pappagallini? Chiese a Vittorio. Sì, tantissimo. Aiuto sempre la signora Ludmila a prendersene cura, rispose il ragazzo, spargendo lacrime sul viso. Lei ha anche detto che quando nasceranno i piccoli pappagallini, potrebbe darmene uno, se ovviamente i genitori sono d'accordo. Vittorio finì in silenzio, e le lacrime scesero ancora più abbondanti dai suoi occhi. Così nella loro casa apparve un pappagallino ondulato. Il piccolo uccello vivace conquistò subito i cuori di padre e figlio. Passavano molto tempo a osservarlo e parlavano di procurargli una compagna, mentre Vera era disperata e arrabbiata. E come non poteva essere arrabbiata? All'epoca vivevano in un piccolo appartamento con due stanze. La piccola stanza apparteneva al figlio, e la grande fungeva sia da salotto che da camera da letto, il che di per sé irritava molto Vera. Ogni mattina doveva sistemare il letto e piegare il divano su cui dormivano lei e Gregorio. Quasi ogni giorno passava l'aspirapolvere e spolverava, per mantenere tutto pulito nel caso in cui una vicina passasse a chiedere del sale. Tutti, assolutamente tutti gli amici e conoscenti, ammiravano la pulizia e l'ordine nella loro casa. E poi, come un fulmine a ciel sereno, quel pappagallo. Vera non aveva idea di quanto sporco potesse fare quella piccola creatura. Ma il peggio era che ogni sera marito e figlio lasciavano volare il pappagallino fuori dalla gabbia. È pur sempre un uccello, diceva suo marito con un tono che non ammetteva repliche. E come un bambino ha bisogno di giocare all'aperto, così un uccello ha bisogno di volare, altrimenti si rattrista e si ammala. E il pappagallino volava felice per la stanza sotto i commenti gioiosi di Vittorio e Gregorio, mentre Vera andava in cucina a bere Valeriana. E poi passava con uno straccio umido. Esaminando attentamente tutti gli armadi, il lampadario, e così via. Vera la incoraggiava dolcemente suo marito. Nessuno dei vicini si metterà a controllare su sedie per vedere se c'è polvere sopra l'armadio. Calmati, non complicarti la vita. Siete voi con il vostro stupido pappagallino a complicare la mia vita. Voi! Voi! Vera urlava furiosamente, pulendo il lampadario. La goccia che fece traboccare il vaso fu quando il pappagallino iniziò a staccare con il suo becco la carta da parati in un angolo della stanza dietro la tenda. Vera non poteva sopportarlo. E un giorno, mentre Gregorio e Vittorio erano fuori a comprare il mangime per l'uccellino, lei aprì decisamente la porta della gabbia. Il pappagallino volò fuori felice nella stanza e si posò sul lampadario. Vera tirò indietro la tenda, aprì ampiamente la finestra e aspettò. Dopo un po', l'uccellino, guardandosi intorno meravigliato, volò via verso l'azzurro del cielo. Finalmente, esclamò Vera sollevata, chiuse la finestra e tirò la tenda. Al marito e al figlio disse che aveva fatto le pulizie e aperto la finestra per ariare. E che se qualcuno di loro aveva dimenticato di chiudere la porta della gabbia il giorno prima, non era colpa sua. Vittorio, naturalmente, iniziò a piangere. Gregorio si corrugò e se ne andarono a cercare il pappagallino. Ma lei esultava. Fine delle sue sofferenze. E come era statabile a farlo? Nessuno avrebbe potuto sospettare. Tuttavia, tardi quella sera, mentre giaceva a letto, Gregorio le disse. Hai fatto male, Vera? Ricordo bene di aver chiuso la gabbia ieri sera. Oh, va bene, rispose lei. Adesso pensa piuttosto che dobbiamo fare dei lavori in quella stanza. Non possiamo vivere con la carta da parati rovinata. E per favore, non dire che dietro la tenda non si vede. Io so che è rovinata. Questo basta. E Vittorio continuò a cercare il pappagallino fino all'inverno. Ma la felicità durò poco. Appena Vera, dopo aver sostituito la carta da parati, aveva rimesso ordine in casa, Gregorio regalò al figlio, che ancora sospirava per i pappagallini. Un porcellino d'India per il suo compleanno. È un animale molto dolce e tranquillo. Non volerà per la stanza e non rosiccherà la carta da parati, la tranquillizzava suo marito. Vittorio era felice. Lui e suo padre allestirono un angolo nella sua stanza per Tosca. Così chiamarono il roditore. E si assicurarono che l'animale non uscisse dalla sua stanza. Inizialmente, Vera era neutrale nei confronti di Tosca. Ma quelle infinite segature e erba secca, su cui talvolta inciampava nel corridoio, quell'odore che periodicamente proveniva dalla stanza del figlio, lentamente ma sicuramente alimentavano nel suo cuore l'antipatia per l'animale. E poi c'era la vicina, venuta a prendere il chiudipacco, che malignamente lasciò cadere. Oh, Vera, io che ho sempre lodato a tutti la tua perfetta pulizia e ordine, e tu hai un filo d'erba secca sotto la sedia. Da quel momento in poi odiava profondamente Tosca. Non poteva sopportare di vederlo. Un giorno, Vittorio corse fuori a giocare con gli amici e lasciò la porta della sua stanza socchiusa. La porta si aprì da sola, e dopo un po', Tosca uscì nel corridoio sulle sue piccole zampette. Curioso, annusava l'aria, chiedendosi dove andare. E poi lo vide Vera, che stava andando in cucina. Non ci mancavi che tu qui. Vai via nella tua stanza, urlò la donna. Tosca alzò spaventato la testa e la guardò con occhi rotondi e incomprensivi. I suoi baffi tremavano leggermente. Fuori di qui, urlò ancora più forte. E con tutta la forza calcio Tosca nella stanza e chiuse la porta a chiave. Quando Vittorio tornò a casa, Tosca giaceva immobile nel suo angolo. Non respirava più. E poi nacque la risa. E per il marito e il figlio non c'era più tempo per gli animali. Quando la figlia compì cinque anni, si trasferirono in quell'appartamento. Il suo sogno più grande si era avverato. Con quanta diligenza, con quanto amore arredava il suo nuovo nido. Vera non risparmiava né tempo né energie. E quando tutto fu finito e Vera finalmente trovò la felicità, Gregorio portò a casa un cucciolo. Vera, da bambino ho sempre sognato di avere un cane, dichiarò. Ora abbiamo molto spazio, e possiamo permettercelo. Pensa a quale gioia per i bambini avere un amico a quattro zampe. Inoltre, prendersi cura di un cane insegna disciplina e abitua all'ordine. Che tanto ami? Certo, i primi mesi saranno difficili, finché non crescerà abbastanza da poter uscire per le passeggiate. Ma sono solo pochi mesi. Lo sguardo supplichevole del marito, l'entusiasmo del figlio ormai cresciuto e il grido di gioia di Larisa, Vera non riuscì a resistere. Tutti i nuovi tappeti dovettero essere rimossi dal pavimento e messi sul balcone per tempi migliori, il che di per sé gettò Vera nella disperazione. Il piccolo Jack correva per tutto l'appartamento con gioiosi latrati. E ovunque si sedesse, lasciava una piccola pozza o peggio. E sebbene tutti pulissero dopo di lui, anche Larisa, che aveva solo sei anni, Vera diventava ogni giorno più infelice. Appena aveva finito di sistemare tutto, era il momento ideale per invitare amici e conoscenti a vantarsi. Ed ecco apparire questo mostro peloso. Solo pozze dappertutto, che vergogna, cosa penseranno? Passarono due mesi, e poi un giorno meraviglioso. Sì, proprio meraviglioso, pensò Vera. Una collega di lavoro, quasi in lacrime, le raccontò che avevano preso un cucciolo per il figlio. Ora si era scoperto che il ragazzo era allergico ai cani, e avevano dovuto dar via il cucciolo. Come non ci ho pensato prima. Tutto così semplice, allergia. Pensò Vera gioiosamente, e, presa l'ispirazione, chiese permesso di uscire dal lavoro per un malessere, e corse dal medico di famiglia. Per rendere la cosa più credibile, decise di attribuire l'allergia a Larisa. Gregorio adorava la figlia. Tutto andò liscio come l'olio. Dopo lunghe lacrime, portarono Jack in campagna dalla nonna, dove andavano in estate. Jack, il mio cagnolino, piangeva amaramente Larisa, abbracciando il cucciolo per l'ultima volta. Resisti un po'. Presto sarà estate, e tutti verranno a trovarti. Ma quando, un mese dopo, arrivarono in campagna, di Jack non c'era più traccia. La vecchia non era riuscita a tenere d'occhio il vivace cagnolino. Jack era scappato fuori dal cancello e una macchina lo aveva investito. Tutti questi ricordi scorrevano veloci nella mente di Vera, mentre stava nella stanza della figlia e guardava la gatta che dormiva. Un saluto da mio figlio. Così pensava di Marquise. Il fatto è che allora, quattro anni fa, Gregorio le aveva creduto quando lei portò il certificato di allergia. Ma Vittorio no. Aveva sedici anni, un'età difficile. Iniziò a essere scortese con Vera, insinuando la sua menzogna, e iniziò a studiare male. Per questo non entrò all'università, ma andò all'esercito. Quasi prima di partire, il figlio portò a casa un piccolo gattino, un regalo di addio per Larisa. Vittorio amava molto sua sorella minore. E anche consegnò a lei e al padre un certificato che attestava che Larisa non era allergica ai gatti. Inizialmente, Vera si era comportata bene con Marquise. Sentiva molto la mancanza del figlio, e il gattino le ricordava Vittorio. Ma col passare del tempo, il sentimento di nostalgia si attenuò, e la gatta, come tutti gli animali precedenti in casa loro, disturbava la pulizia e l'ordine. Non solo la sua pelliccia era dappertutto, ma a volte rovinava i mobili con le sue unghie, nonostante ci fosse un tiragraffi in casa. Distrusse l'unico fiore che completava così armoniosamente l'interno del soggiorno. Strappò la tenda, saltando dietro a una mosca. E chi può elencare tutti i suoi dispetti? La rabbia saliva lentamente nel suo petto. Per calmarsi, Vera uscì dalla stanza della figlia e andò in salotto. La donna si sedette accuratamente sul nuovo divano, accarezzando amorevolmente con la mano il tessuto liscio. Il suo viso pieno si aprì in un sorriso felice e sognante. Le sue dita incontrarono una piccola ruvidità. Vera si fermò e lentamente spostò lo sguardo. I suoi occhi si allargarono d'orrore. Sul nuovo divano liscio c'era un segno appena visibile di un artiglio di gatto. «Maledetta! Maledetta! Che tu possa morire!» urlava Vera in tutto l'appartamento. Il viso si colorò di rosso. Era scossa dall'odio e dalla rabbia. Senza pensare, irruppe nella stanza della figlia e afferrò la gatta. Gregorio e Larisa entrarono rumorosamente nell'appartamento. Erano stati allo zoo. Avevano aperto un nuovo ampio recinto per gli orsi. Allegri ed eccitati, raccontavano a Vera dei cuccioli di orso. «Mamma! Guarda cosa abbiamo comprato per Lucy!» esclamò Larisa, tirando fuori dalla borsa una torcia a giocattolo. La ragazza corse nella sua stanza. «Marquise! Marquise! Dove sei?» si sentiva la sua vocina. «Mamma! Dove è Marquise? Non è in camera. Da dove dovrei sapere dove è il tuo gatto? L'appartamento è grande, starà dormendo da qualche parte. Andiamo a pranzo, si sta raffreddando tutto». In quel momento suonò il campanello della porta d'ingresso. Sulla soglia c'era la vicina del primo piano. Loro vivevano al nono. «Gregorio, il vostro gatto è in casa?» chiese la donna anziana a Gregorio che aveva aperto la porta. «È sempre in casa. Non va mai fuori», rispose sorpreso l'uomo. «Non riusciamo a trovarla», si precipitò la risa. La vicina chiamò Gregorio fuori dalla porta, poi disse sommessamente. «Stavo annaffiando i fiori sotto il balcone. E là c'è un gatto che sembra il vostro Marquise». Gregorio impallidì e scese giù con la vicina. «Ecco, guarda, somiglia molto a Marquise». Si accucciò e accarezzò con mano tremante il corpicino morto. Le lacrime traditrici gli punsero gli occhi. «È Marquise», sospirò pesantemente Gregorio. «Probabilmente è caduta dal balcone», disse compassionevolmente la vicina. «Probabilmente riuscì a dire Gregorio, guardando verso il balcone». La finestra era chiusa. La tenda tirata con cura. «Guarda, signora Tamara, portami una pala. Io, tornerò subito». Guardava la moglie con uno sguardo pesante, pieno di disprezzo. «Perché odi tutti così tanto? Cosa stai dicendo, Gregorio? Sei stato tu a fumare sul balcone prima di andare allo zoo e non hai chiuso la finestra. È caduta da lì». Vera balbettava spaventata. «Sì, ho fumato, ma ho chiuso la finestra. La chiudo sempre automaticamente. Ma quella tua cara tenda non la tiro mai. Comunque ora è tirata molto accuratamente». Gregorio si avvicinò molto a sua moglie. Vera andò nel panico. «Non aveva mai visto il marito così. Il tuo gatto ha graffiato il nuovo divano», urlò disperata. Il pugno del marito colpì con tutta la forza l'armadio accanto al suo viso. Con gli occhi follemente scintillanti, Gregorio afferrò un coltello dalla cucina. «Il divano, dici, graffiato. Eccolo il tuo divano. Eccolo. Eccolo». In preda alla rabbia, Gregorio lacerò con il coltello il nuovo divano e corse fuori dall'appartamento. La rabbia lo travolgeva. Non aspettando l'ascensore, corse giù per le scale. Nella sua testa c'era solo una parola, canaglia. Un acuto stridio di freni e un forte impatto interruppero per sempre quel turbine di pensieri nella sua testa. Sono passati 25 anni. All'ingresso, su una panchina, siede costantemente una donna anziana solitaria. «Buongiorno, signora Vera», le lancia di passaggio la gioventù che corre. Lei si limita a annuire in silenzio, fissando incessantemente il sentiero che porta dalla fermata dell'autobus. Quando Vittorio tornò dall'esercito e seppe cosa era successo, raccolse silenziosamente le sue cose e se ne andò di casa. La risa per molto tempo non parlò con nessuno, fu curata dai medici. Quando terminò la scuola, se ne andò con il fratello in un'altra città. Entrambi la incolpavano per la morte del padre. Per tutti questi anni non sono mai venuti a trovarla. L'hanno semplicemente cancellata dalla loro vita insieme al suo appartamento. Da un bel po' nessuno infrange il suo ordine perfetto, ma ultimamente sempre più spesso le parole di suo marito, dette una volta in scherzo, le tornano in mente. «Vera! Hai così tanto ordine che a volte viene voglia solo di sputare, voglia solo di sputare, voglia solo di sputare».